buongiorno ragazzi oggi vi porto a Campocatino dopo quasi più di un mese che non faccio un volo in montagna oggi si va in montagna e che montagna siamo al fresco oggi sopra mille metri d'altezza di montagna via ci si vede lì Gabri dove siamo? ovviamente sempre a Campocatino eh sì, il Campocatino a 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 Campocatino Godus Godus operandi a Campocatino 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 a Campocatino